Daniela Lucangeli, professore ordinario di psicologia dello sviluppo Università di Padova. Il progetto I bambini contano è un progetto straordinario da un punto di vista istituzionale perché la fondazione Vodafone ha finanziato un'utopia dei ricercatori che è quello di utilizzare degli strumenti che non sono intelligenti come la calcolatrice in una modalità che è del futuro per il presente, cioè una modalità digitale, una app, in maniera da fare in modo che i bambini utilizzandola invece che perdere funzioni e disperdere competenze sviluppino proprio intelligenza nella combinazione di numeri. In particolare ci siamo concentrati a quelli che sono i fatti numerici o tabelline, cioè i mattoncini che ci consentono poi di crescere contando. Considerando che abbiamo così tanti ragazzi che a scuola vanno male in matematica, questa app è una sfida libera da ogni altra modalità didattica e comincia a tentare di focalizzare l'attenzione dei bambini fin dall'inizio soltanto sui meccanismi che sono di combinazione di numeri. Riprende la tabella pitagorica e la trasforma in una tabella dinamica in cui giocando con le combinazioni la nostra memoria non farà più errori. Si orienta a quel 2% di bimbi che vengono definiti discalculici ma in realtà è per dimostrare a tutti e alla scuola che sarà quanto possiamo fare per riuscire ad avere veramente il meglio da ogni bambino che con i numeri dovrebbe avere tanta tanta familiarità e gioia.